Ciao ragazzi! In questo video proseguiamo il discorso sui radicali che abbiamo cominciato nei video precedenti della playlist dando un'occhiata alla razionalizzazione. Cerchiamo innanzitutto di capire di che cosa si tratta. Per razionalizzazione del denominatore di una frazione si intende il procedimento che consente di eliminare dal denominatore stesso eventuali quantità irrazionali ed in particolare radicali. L'obiettivo della razionalizzazione è quindi quello di descrivere la frazione in una nuova forma equivalente a quella di partenza però priva di radici al denominatore e questo oltre a rendere il risultato più maneggevole torna poi molto utile in alcuni contesti come ad esempio il calcolo di certi limiti. Senza perdere altro tempo vedremo subito concretamente come si fa a razionalizzare negli scenari più comuni in cui potreste imbattervi negli esercizi. Se il denominatore della vostra frazione è la radice quadrata di una certa quantità per razionalizzare è sufficiente moltiplicare sia il numeratore che il denominatore della frazione proprio per quella radice. Se quindi ad esempio dovessimo razionalizzare questa frazione che vedete ha come denominatore radice di 2 ci basta moltiplicarne sia il numeratore che il denominatore entrambi per radice di 2 ovvero per la radice che abbiamo al denominatore. In questo modo vedete sopra otteniamo 5 radice di 2 mentre al denominatore abbiamo un radice di 2 per radice di 2 che fa naturalmente 2 e quindi vedete siamo riusciti a riscrivere la frazione di partenza in una forma completamente equivalente però priva di radici al denominatore. Analogamente se dovessimo razionalizzare 10 fratto radice di 5 ci basta moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per radice di 5. In questo modo vedete sopra otteniamo un 10 radice di 5 mentre al denominatore abbiamo un radice di 5 per radice di 5 che fa 5 e già che ci siamo avendo un 10 al numeratore e un 5 al denominatore li possiamo semplificare ottenendo come risultato un 2 radice di 5. Anche stavolta quindi siamo riusciti a riscriverci la frazione di partenza in una forma equivalente priva di radici al denominatore. Qui sotto vi ho riportato un altro paio di esempi stavolta con radicandi letterali e come vedete le cose funzionano allo stesso identico modo. Si tratta sempre di prendere la frazione di partenza e moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per la radice che avevamo al denominatore. In questo modo una volta che uno si fa i conti otteniamo una nuova frazione del tutto equivalente a quella di partenza però priva di radici al denominatore e di fatto quello che accade è che la radice che avevamo prima al denominatore ce la ritroviamo alla fine spostata al numeratore. Ah mi raccomando il motivo per cui la frazione di partenza è uguale alla frazione che otteniamo alla fine è che noi moltiplichiamo sia il numeratore che il denominatore per la stessa quantità il che è sostanzialmente equivalente a moltiplicare la nostra frazione per uno se immaginassimo di semplificare e capite che moltiplicandola per uno il valore naturalmente non cambia. Se invece il denominatore fosse una generica radice ennesima di a alla m con m esponente del radicando minore di n indice della radice allora per razionalizzare è sufficiente moltiplicare sia il numeratore che il denominatore della frazione stavolta per radice ennesima di a elevato alla n meno m ovvero alla differenza tra l'indice della radice e l'esponente del radicando. Se quindi ad esempio dovessi razionalizzare 3 fratto la radice settima di 2 alla seconda mi conviene moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per radice settima di 2 alla quinta e vedete che questo 5 non è altro che la differenza tra l'indice della radice e l'esponente del radicando. In questo modo sopra vedete otteniamo 3 volte la radice settima di 2 alla quinta e sotto invece abbiamo un radice settima di 2 alla seconda per radice settima di 2 alla quinta che in base alle proprietà di cui abbiamo parlato nei video precedenti diventa semplicemente un radice settima di 2 alla settima e radice settima di 2 alla settima naturalmente fa 2. Dunque vedete siamo riusciti a riscrivere la nostra frazione di partenza in una forma equivalente però priva di radici al denominatore. Similmente se dovessi razionalizzare 10 fratto radice cubica di 5 mi conviene moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per radice cubica di 5 alla seconda dove questo 2 non è altro che la differenza tra l'indice della radice che è 3 e l'esponente del radicando che in questo caso non vediamo perché è 1. Se facciamo così quando poi andiamo a moltiplicare al denominatore otteniamo un radice cubica di 5 per radice cubica di 5 alla seconda che fa radice cubica di 5 alla terza e naturalmente radice cubica di 5 alla terza è semplicemente 5 e quindi una volta fatte le semplificazioni riusciamo a riscriverci la nostra frazione in una forma equivalente priva di radici al denominatore. Se invece al denominatore della frazione che volete razionalizzare compare una somma o una differenza di due radici quadrate allora per razionalizzare si sfrutta il prodotto notevole a più b per a meno b uguale a alla seconda meno b alla seconda nato anche come differenza di quadrati. Per capire come fare ad utilizzarlo diamo subito un'occhiata ad un primo esempio e supponiamo che ci venga chiesto di razionalizzare questa frazione al cui denominatore vedete compare una differenza di due radici quadrate. In questo caso per razionalizzare la frazione ci conviene moltiplicarne sia il numeratore che il denominatore per la somma delle due radici quadrate. In questo modo quando poi andiamo a svolgere le moltiplicazioni al denominatore ci troviamo la differenza delle due radici moltiplicata per la loro somma e questo alla luce del prodotto notevole di cui parlavamo poco fa diventa semplicemente la prima radice elevata al quadrato meno la seconda radice elevata al quadrato ed il vantaggio di fare questo è che naturalmente le radici nel momento in cui io le elevo al quadrato vanno via e quindi il mio denominatore diventa semplicemente 3 meno 2 che fa 1 e dunque la nostra frazione di partenza si può riscrivere in maniera del tutto equivalente come radice di 3 più radice di 2. In maniera simile se la frazione che voglio razionalizzare presenta al denominatore una somma di radici quadrate per razionalizzarla mi conviene moltiplicarne sia il numeratore che il denominatore questa volta per la differenza delle due radici in questo modo quando poi vado a svolgere le moltiplicazioni al denominatore succede esattamente quello che accadeva prima ovvero mi ritrovo la somma delle due radici moltiplicata per la loro differenza e questo in base al prodotto notevole di cui parlavamo poco fa diventa la differenza tra i quadrati delle due radici cosa che naturalmente ci piace molto perché nel momento in cui noi le radici le eleviamo al quadrato queste spariscono e il denominatore diventa semplicemente un 5 meno 3 che fa 2 e quindi di nuovo vedete siamo riusciti a riscrivere la nostra frazione che aveva delle radici al denominatore in una forma del tutto equivalente priva di radici al denominatore ma naturalmente se il mio denominatore fosse stato invece che radice di 5 più radice di 3 che ne so 5 più radice di 3 ovvero se anche solo uno dei due addendi al denominatore fosse una radice quadrata io posso comunque utilizzare questa tecnica cioè appoggiarmi a questo prodotto notevole e riuscire a razionalizzare in ogni caso quindi diciamo il trucchetto resta valido anche se solamente uno dei due termini che abbiamo sommati o sottratti al denominatore è una radice quadrata si procede anche in quel caso lì ha lo stesso identico modo e si riesce a razionalizzare prima di salutarvi volevo dirvi infine che le tecniche di razionalizzazione che abbiamo visto in questo video sono le più comuni e quelle che servono per risolvere la stragrande maggioranza degli esercizi è bene però sapere che ce ne sono anche delle altre che si utilizzano però molto più raramente e in scenari meno comuni che si appoggiano ad altri prodotti notevoli come la somma di cubi o la differenza di cubi o altre tecniche di fattorizzazione se ne capiterà l'occasione ne vedremo qualcuna in azione nei video successivi io per il momento ragazzi vi saluto come sempre se avete trovato utile il video ricordatevi di mettere mi piace passate a trovarci sulla pagina facebook e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video iscriviti al canale